Guardate come si è buggato questo! Destiny ahahaha D-D-D-D-D-D-Destney ahahaha Ciao a tutti compagni, qui il vostro Chiezo che vi parla Bentornati forse con l'ultimo episodio del Let's Play di Battlefield by Company 2 Siamo dentro l'aereo che stavamo inseguendo nell'episodio precedente Adesso siamo senza armi Vieni qua, vieni qui, chi è? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Cosa? L'ho coltellato? L'ho coltellato io, l'ho coltellato per prima io Porca di una neva Come mi stavo dicendo Come stavo dicendo Abbiamo Ok Come stavo dicendo abbiamo appunto Abbordato questo aeroplano Pieno di nemici E soprattutto gigante E adesso niente Dobbiamo semplicemente Fermare Kirilenko Con la sua arma Scalare distruttiva Uh Grazie Ci regalate tanti rifornimenti Come vi ho detto Penso che questo qua sia l'ultimo episodio Perché appunto Se non mi ricordo male Sì, è l'ultimo episodio Non vorrei dire Cagavolate Ok Facciamo strage di nemici Tanto che avanziamo verso La cabina di pelotaggio Intanto Guardate come si è buggato questo Guardate, è bellissimo Destiny Ah 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 Destiny Ah 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 Guardatelo, guardatelo Balletta Yeah, yeah, yeah Niente, dai Andiamo avanti Sennò qua Faccio tutto l'episodio Guardando quest'uomo Qua vediamo cosa c'è C'è una macchina Grande Ma scusate L'avete visto pure voi Colui che volava Non solo io Ma ancora Ma basta Quanti soldati si devono buggare Niente raga Pure questo soldato qua Si è buggato Poverino Non è stata colpa nostra Per entrare ci vorrà L'intervento di Dio Ho un bel po' di C4 Sì, forse ci toccherà Fare pezzi l'aereo Ti ricordi la pianta Della cabina? Sì È tutto in testa Nessun problema Ok Qualcuno ha mai pilotato un aereo? Ok, questo È un problema Che affronteremo poi Andiamo Mi regalate così a sbaffo Un Usas? Cioè, volete proprio Che lo usa allora? Affare fatto Quando arriva il fumo Tu li fai fuori Ah Che bello Che belli questi momenti Fate silenzio Che questo sta dormendo Fate silenzio Per favore Mamma mia Le stragi Le stragi Che bello Sti momenti qua Pieni di distruzione Di massa E di fucilata pompa Dai, cosa vuoi fare? Ah, stai zitto Eh, lo so No, eh Non ci posso morire qua io Ok Non sono morto infatti Dove diavolo è Chi rilenco? Quasi 130 km dal Texas Ci avviciniamo Sergente Non c'è più tempo Signore Tutto il composto Che mi avete dato Ci proteggerà Dall'impatto Vi sono molto grato Buon divertimento Non è del tutto vero Che non siamo riusciti A entrare nella stanza Delle armi In effetti no Ma Ah Fanculo Tanto in pensione Mi sarei annoiato Troppo tardi Siamo quasi al punto zero Non credo Procedi Cosa? Che modo fate? Indietro ragazzi Eh L'ora dello spettacolo Mori Affare fatto Questo cazzo Dianese Va giù Fa qualcosa Dov'è Chi rilenco? Via 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 Che figo Che figo Eh sì Vabbè Poi Ah ci sei morto Chi rilenco Ciao ciao Sweet Paracadute Grazie Sweet Siamo in Texas Casa dolce casa Ok ok Tanto prima o poi Una visita dovevo farla Oh cazzo Ora che facciamo Sergente Tu che ne dici? Secondo me devi parlare con Marlow Grazie a lui sono ufficialmente in pensione Sì Marlow Ottimo lavoro Io? Ma sta zitto E tu allora? Non lo so Era una figata Ma la merda delle operazioni speciali Non fa per me Beh ora Dobbiamo festeggiare Conosco un posto che ti piacerà un casino C'è una ragazza del nome Chantal Che ti fa Squadra Attenti Signori Signore Riposo Avete la profonda gratitudine Del governo degli Stati Uniti Mi spiace molto doverlo dire Ma ho bisogno che veniate tutti con me Ma perché signore? I russi Stanno invadendo Signore Non è così Abbiamo appena distrutto la loro cazzo di arma segreta In pratica Invasione annullata signore Non qui Stanno arrivando dall'Alaska Alaska? A volte avere ragione è uno schifo Ragazzi anche questo let's play finisce Abbiamo completato Battlefield Company 2 Spero che questa serie vi sia piaciuta In tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento Iscrivetevi al canale se non siete ancora E di passare dalla pagina Facebook Che trovate sotto in descrizione A breve farò un altro video dove vi dirò la serie che vorrei iniziare Vi dico già adesso che io vorrei iniziare la serie di Killzone Ditemi nei commenti se l'idea vi può piacere Soprattutto io parto da Killzone 1 Fino ad arrivare a Killzone Shadow Fall Ditemi nei commenti se vi va O magari suggeritemi altri giochi che vorreste vedere da me Come let's play Niente ragazzi Io come solito vi ringrazio per tutto quanto Per aver seguito questa serie Di tutti i like che avete lasciato Tutti i bei commenti E per avermi fatto compagnia Noi ci vediamo al prossimo episodio Bye Bad Company Italy Bad Company Italy